Buongiorno a tutti, io sono Italo Diugno, come sta scritto sulla slide, sono uno dei cofondatori del progetto LibreOffice, la Darwin Foundation è la fondazione che ha gestito in forza l'OpenOffice a LibreOffice e che ha poi gestito e gestisce e coordina lo sviluppo di LibreOffice e sono uno dei fondatori e sono per motivi di età semplicemente il Presidente onorario di LibreItalia. Quando uno comincia a diventare Presidente onorario è un segno. Allora poi uno guarda e si rende conto che si comincia ufficialmente a perdere neuroni 22 anni, io sono 38 anni per perdere neuroni, quindi uno fa due punti. È forma di maturità ma insomma qualcun altro la definisce in un altro modo. Come migrare a OpenOffice a LibreOffice è lo standard ODF. Perché questa domanda? Perché in realtà se poi è difficile, c'è qualcuno ma poca gente che ha iniziato a lavorare su OpenOffice o LibreOffice, quindi su Suite Libre. La maggior parte di noi ha iniziato a utilizzare nel bene e nel male, volentieri o nel male, da Microsoft Office. Quindi il passaggio è una migrazione. Perché? Perché c'è un motivo di conto, LibreOffice non è nato come clone di Microsoft Office, anzi per la storia LibreOffice c'è più anni di Microsoft Office. Perché la prima versione di StarWriter è del 1985. La prima versione di Microsoft Word per DOS è di alcune settimane successiva a StarWriter. Quindi non è nato come clone, è nato in un continente diverso, perché Microsoft Office è nato dall'acquisizione successiva di aziende americane da parte di Microsoft. Spero che sia il caso di dirlo, perché molti pensano che Microsoft sviluppi tutto al proprio interno, anzi Microsoft innovazione al proprio interno difficilmente la fa. Microsoft ha acquisito Word da un'azienda texana, ha acquisito CAC dando lavoro ai due sviluppatori di VisiCAC che è stato il primo, che erano di Boston, che è stato il primo foglio elettronico. Ha acquisito PowerPoint, mi sembra da un'azienda dell'Arizona, ma non ne sono sicurissimo. Comunque non sviluppato in casa neanche quello. Ha acquisito Outlook, e questa è stata la cosa peggiore in assoluto perché avrebbe fatto meglio a non acquisirlo, da un'altra azienda texana. Allora io, se voi leggete in giro, io dico che non uso Outlook perché la mia religione me lo impedisce. In realtà io non uso Outlook perché lo trovo un programma offensivo nei confronti del genere romano. Tanto che dico che è stato sviluppato da un quadrumane per evitare di offendere gli animali, perché sono più gli animali che i quadrumani, per cui almeno riducco l'offesa a un'area circoscritta. Quindi offendo solo gli uomini e le cime, con buona pace, dei babbuini. Ma Outlook è veramente offensivo. Credo che uno dei sottoprodotti dell'uso di programmi di questo tipo sia il fatto che noi partiamo tutti dall'essere educati male proprio nel rapporto con il software. Perché si pensa, e se voi ci pensate, se vi è capitato, se succede qualcosa che non riuscite a capire mentre state utilizzando Office, pensate che siete voi il problema. Se succede qualcosa che non capite usando LibreOffice, pensate che è il problema LibreOffice. Normalmente è esattamente il contrario, cioè il problema è nel software e non nel utente, ma c'è proprio una situazione bacata di fondo che è dovuta alla grande capacità di Microsoft di fare comunicazione. Microsoft nel corso degli ultimi 30 anni non ha fatto innovazione, ha comunicato quello che voleva che gli utenti comprendessero. E quindi ci troviamo tutti. E io sono primo perché io mi sono laureato nel 1978 in lettere, quindi al di fuori di ogni sospetto dal punto di vista tecnologico, scrivendo la mia tesi a macchina, con la macchina da scrivere. Quindi, perché non esistevano i computer, cioè proprio non esisteva il personal computer, esistevano i mainframe, ma uno scriveva la tesi su un mainframe ovviamente. E quindi poi mi sono trovato a utilizzare per tantissimi anni i prodotti Microsoft prima in modo inconsapevole, perché lo facevano tutti e quindi era quello che si faceva. Poi a un certo punto mi sono stufato perché ho detto, ma io posso scegliere che macchina acquistare tra 50 modelli, che televisore acquistare tra 50 modelli, tre, e poi come software devo per forza usarne uno. Probabilmente perché sono uno spirito anarchico dalla nascita, io intorno al 2000 ho detto, mi sono stufato, cerco un'alternativa. E quindi ho iniziato a guardarmi intorno, ho iniziato a scaricarmi dei cloni, perché all'epoca c'erano dei cloni freeware di Microsoft Office, che però non avevano personalità, perché essendo un clone erano esattamente, scignottavano Office tanto quanto. Poi a un certo punto mi sono imbattuto in Open Office e ho detto, ma qui c'è un minimo, cioè è diverso, quindi significa che ci hanno pensato quando l'hanno fatto, non conoscevo la storia per cui poi me la sono andato a studiare e ho iniziato a usare Open Office. Nel 2004 poi sono entrato nella comunità, ho iniziato ovviamente a parlare in modo chiaro con quelli di Sani, quelli di Sani nel 2005 hanno detto perché non la smetti di parlare e poi nel 2006, siccome io non la smetto, mi hanno tolto il saluto, quindi è una cosa matura da azienda, come dire, quotata in borsa che si fa, insomma, cioè se trova uno che gli rompe le scatole dicendo la verità, gli toglie il saluto. Per cui sono diverse le aziende che mi hanno tolto il saluto nel corso degli anni. Per cui tutto questo per dirvi che ovviamente noi ci troviamo di fronte a un passaggio che è più culturale e psicologico che a un passaggio tecnologico. Cioè passare da Microsoft Office a LibreOffice è più una questione di tipo culturale che psicologica, che tecnologica. Il 98% delle funzionalità sono assolutamente identiche. Sono magari sviluppate in modo diverso perché gli sviluppatori sono diversi, ma fate esattamente le stesse cose. Io spesso faccio corsi di formazione e c'è gente che mi dice ma questa funzionalità non c'è. No, c'è. Allora è molto meglio partire dal presupposto che la funzionalità c'è piuttosto che pensare che non ci sia. Perché le funzionalità che non ci sono, quel 2% che non c'è, sono funzionalità di analisi economica che vengono utilizzate da almeno dello 0,5% degli utenti a livello mondiale. E le aziende che le utilizzano sono Merrill Lynch, Lehman Brothers, le banche d'affari che ovviamente non sono le aziende più diffuse nel mondo. Perché? Perché sono quelle funzionalità che sono nate con funzioni di analisi soprattutto economico-borsistica, quindi economico-finanziaria, che sono molto limitate. Molti di noi non saprebbero neanche da che parte iniziare a fare una simulazione di quel tipo. E il fatto che LibreOffice non le abbia, non significa che non le ha, significa che si arriva allo stesso risultato, perché parliamo di formule matematiche, facendo una sequenza di operazioni. Mentre lì c'è la formula, come dire, già predisposta, per cui parliamo di prodotti che sono sostanzialmente identici. Cosa significa passare da Microsoft Office a LibreOffice? Significa nella realtà passare da una situazione di interoperabilità falsa o assente a una di interoperabilità basata sugli standard aperti. E qui cercherò di spiegarmi, perché magari uno si aspetta che io mi faccia vedere come è fatta l'interfaccia di LibreOffice, invece io gli parlo di roba che non si aspetta. Perché? Perché in realtà fai, print c'è su Microsoft Office, su LibreOffice, c'è su tutte le suite per ufficio. Il MailMerge c'è, quindi è inutile che vi vada a presentare il prodotto, perché ci mettete molto meno a trovare la funzione da soli che a guardare me che ve la racconto. Io credo che sia fondamentale raccontarvi perché è importante il passaggio, perché stiamo facendo qualcosa che è culturalmente valido, non perché stiamo sostituendo una roba che ha un costo a una gratuita. LibreOffice è gratuito l'uso del software, non è gratuito un uso professionale, perché dovete fare formazione, dovete imparare a usarlo, dovete prendere dei professionisti che vi aiutino a migrare, ovviamente parliamo di un'azienda, un individuo, tutto questo se lo fa da solo, tranquillamente. Quindi le aziende, l'implementazione di Microsoft Office in ambiente aziendale ha un costo molto inferiore a quello di LibreOffice, LibreOffice, scusate, molto inferiore a quello di Microsoft Office, ma non è gratuita, è la licenza che è diversa perché partiamo da principi culturalmente diversi. E quindi come abbandonare un passato scandito dalle scelte dei fornitori a un futuro attento alle esigenze degli intenti, cioè se voi usate Microsoft Office sapete che a un certo punto i documenti non ve li legge più perché comunque ogni volta cambia un po' il formato, e lo fa perché ha una ragione speciale, fino ad arrivare al punto che voi non leggete più niente di quello che avete scritto, inciso. Voi non sapete, perché nessuno legge nel Microsoft Office in segremente, che in realtà i documenti sono vostri per il 50%, perché voi non state usando un formato vostro, state usando un formato che vi è concesso su licenza da Microsoft. E già questa è una roba che innervosisce, e poi ci sono altre caratteristiche chicche legate al fatto che Microsoft a livello mondiale è l'azienda che impiega più avvocati, uno dice che è un'azienda software che impiega più sviluppatori, no, impiega più avvocati, a 243 avvocati al libro paga, che fanno benissimo il loro lavoro, perché creano un impianto di tipo legale che limita le libertà dell'utente, che è fatto ovviamente perché? Perché se io limito le libertà dell'utente, l'utente si prende queste libertà perché non si è letto la News and License Agreement, che adesso è 22 pagine, prima era 48, ma comunque un pallosissimo documento legale, ovviamente, io non me lo leggo, faccio sicuramente qualcosa che va contro i principi che sono le News and License Agreement, e poi arriva l'ispettore di Microsoft e mi dice, Birichino, tu hai installate le font che sono licenziate insieme a Microsoft Office, per cui dovresti acquistare la licenza di Microsoft Office, e tu dici, ma ho installata la font, peccato che la font sia dentro la News and License Agreement, c'è un'azienda italiana che ha pagato 800 mila euro di multa per aver installata una delle sei C-font, per cui Calibri, tanto perché è quello, è il primo, cioè il motivo per cui adesso Office va di default sulle font Calibri e Cambria, è questo qui, perché praticamente costringe chi riceve i documenti a installare quelle font, e poi se arriva l'ispettore, l'ispettore chiede il pagamento della licenza di Office, perché quelle lì sono, Microsoft si è comperato di diritti a livello mondiale, delle sei font, sì, sono molto svegli, cioè i ragazzi sono sicuramente molto scaltri, smarti, bravissimi nel marketing e nel loro mestiere, quindi ci troviamo di fronte alla curva del cambiamento, che è insita nell'uomo quando cambia qualcosa, se voi, ve la tolgo perché se no iniziate a leggere e poi siete distratti, allora io mi sono sposato 30 anni fa, felicemente sposato, quindi non sto dicendo le battute sul matrimonio, però ovviamente quando uno si sposa, io sono arrivato a 30 anni vivendo da solo, poi uno si sposa e inizia a vivere con un'altra persona, ha una curva del cambiamento, ovviamente, e questo non è che ci abbia la curva del cambiamento del matrimonio, la curva del cambiamento della macchina che passa dal cambio automatico al cambio manuale, noi abbiamo una curva del cambiamento che è tipica dell'essere umano, quindi passiamo da, prima dalla curiosità, quindi c'è un'eccitazione, poi ci rendiamo conto che non sono tutte rose e fiori e quindi scende la curva, poi troviamo i primi problemi e quindi la curva arriva al suo minimo e poi cominciamo a dire però ce la faccio, ce la posso fare e quindi ritorniamo su, è uguale per tutte le cose, ci pensate uguale per tutto, c'è anche per il software, uno potrebbe dire ma è mai possibile che cambiando software io faccio tutto questo, non è che voi lo fate perché lo volete fare, è la vostra testa che lo fa in automatico perché è fatta così, fa parte di 3 mila anni di cultura e i 3 mila anni di cultura, scusate ma perdiamo noi rispetto ai 3 mila anni di cultura, cioè possiamo anche autoconvincerci che la situazione è diversa ma poi i 3 mila anni di cultura alle nostre spalle, in questo gli americani sono più facilitati perché c'erano solo 500, noi arriviamo da molto più lontano e quindi abbiamo tutto quello che ci portiamo dietro in termini di condizionamenti culturali e anche ambientali, quindi i problemi della migrazione non sono le difficoltà tecniche sono legate ai formati, sono legate alle funzioni e il problema dei formati è un problema importante sul quale spenderò qualche minuto più avanti, poi ci sono le difficoltà psicologiche, proprio la resistenza al cambiamento che è data dall'occhina, cioè noi non siamo autocoscienti, io lo sono ma perché sono anni che ci sto ragionando, ma noi non abbiamo fatto autocoscienza dell'occhina quindi non pensiamo di essere diventati schiavi tra virgolette delle scelte commerciali di micro, perché? Perché tutti quanti noi diciamo ma io lo abbandono quando voglio e questo è normale, la realtà invece no, perché questi signori che sono molto bravi e fanno focus group e ricerche in continuazione, hanno fatto proprio, si sono creati tutta una struttura psicologica che ci porta tutti quanti, ripeto, a pensare che se il problema ce l'ho quando uso Office il problema è mio, se ce l'ho quando uso un altro software il problema è del software, non è mica che ci siamo arrivati perché se poi ci ragioniamo ci rendiamo contro noi stessi che l'equazione è sbagliata, però ci hanno portato a consigliare questa una buona equazione e poi abbiamo le difficoltà ambientali, perché? Perché abbiamo le difficoltà di quelli che ci mettono per esempio, ci schiantano l'RTF e ci dicono dovete leggerlo, l'RTF dovrebbe essere proibito per legge e nel caso proprio volessero questi signori farci leggere gli RTF dovremmo metterli legati a una galera con i ferri ai piedi, loro a convertire gli RTF che ci hanno dato, non noi a convertire un formato che non è mai stato standard e che ha una roba tipo 60 diverse implementazioni negli ultimi 10 anni e quindi automaticamente non è, lo standard può avere una sola implementazione, esiste un riferimento ed è quello, ed è per questo che ODF è standard e tutti i formati Microsoft. Quindi, e poi c'è una questione di rapporto con la tecnologia, molti di noi adesso, probabilmente quelli che sono dentro questa stanza sono tutti, se sono qui è perché sono curiosi nei confronti della tecnologia, ma non tutti sono curiosi nei confronti della tecnologia, molti la subiscono e se la subiscono non hanno voglia di usare dei neuroni per capire cosa devono fare, perché pensano che quella roba lì deve essere fatta in automatico e hanno ragione. Il problema ovviamente qual è? È che c'è tutto un impianto dietro che fa sì che il loro automatismo sia legato a quello di un'azienda e non invece a un automatismo di libertà dell'utente. Quindi abbiamo dei falsi problemi e alcuni dei falsi problemi che nel mondo dei software open vi sembrano strani. È gratuito, chissà come viene sviluppato. Allora, molti di voi lo sanno che viene sviluppato in modo assolutamente professionale, ma io vi assicuro che sono andato a fare incontri e presentazioni e quando vedono me, guarda e fa, ma lei ha qualcosa a che fare con i pre-office. Sì, ma io mi aspettavo di far vedere uno che arriva con l'infradito, con il bermuda, la coda di cavallo e cosa vuol dire? Eh no, perché sa, sono tutti cantinari. No, non sono tutti cantinari. C'è anche qualche cantinaro, come dappertutto. Il grosso è gente professionale che in genere è molto stimata proprio per le sue capacità tecniche e quindi i cantinari se alimentichi per favore. Oppure, dove è il trucco? Ho fatto un corso alla Camera di Commercio di Cuneo 15 giorni fa e mi hanno detto, dove è il trucco? Se è gratuito c'è il trucco sotto. No, non è gratuito perché c'è il trucco sotto. È gratuito e evitare di usare gratuito, non usare libero, perché c'è alle spalle un diverso sistema culturale di fare business. Quindi si fa business in un modo diverso che è assolutamente valido tanto quanto il software proprietario e si fa business in un modo che ci permette di fornire la fruizione gratuita del software. I veri problemi sono il fatto che quando si usa LibreOffice e non si comunica, che si installa LibreOffice, questo dico all'interno delle aziende, senza preavviso, al fatto che non si fa formazione e al fatto che manca una cultura dell'interoperabilità. Per cui noi, proprio perché non abbiamo una cultura dell'interoperabilità, non chiediamo i nostri interlocutori di usare un formato standard, ma ci adeguiamo al formato non standard. Io che sono un pierino, ormai ho le email precodificate. Se mi mandano un formato docx in calibri, arriva un email che dice, allora lei mi sta facendo fare due reati. Il primo è l'uso del calibri, che io non voglio pagare la licenza mai, quindi non voglio installare il calibri. Il secondo è il fatto che lei, soprattutto se è pubblica amministrazione, che l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale obbliga lei, non me, lei, a usare un formato standard e lei non sta usando un formato standard. Quindi la pregherei di mandarmi un documento che non usa font proprietarie brevettate e che usa un formato standard. Normalmente quando rispondo in questo modo mi telefonano e mi dicono, scusi che cosa ha scritto. E allora parte la spiegazione. Esistente. Non so cosa dire, però. Ma l'altro giorno ho fatto una presentazione, ho presentato agli operatori della pubblica amministrazione in regione Campania e è stato buffissimo perché quando ho spiegato la questione delle font c'è stato uno che aveva il totalizzatore che gli scorreva nell'occhio, cioè si vede proprio il dollaro che andava su e giù. E ha iniziato, allora, non scherzo, ha tirato fuori il cellulare, ha fatto i conti, poi è uscito, ha telefonato e poi mi ha detto ho telefonato in azienda di disinstallare il calibri da perduto. Perché ha fatto due conti e ha visto che quell'installazione gli costava un botto di soldi. Il problema è che lei ha le fonti che ha detto sono sei, non uno. Allora, in realtà però i due usati sono calibri e cambria. Perché sono i due di default, il default è calibri, ma se a lei non le piace il calibri perché è un bastone, cioè non ha le grazie, usa il cambria che è il secondo. Io ho sempre usato Times New Roman. Times New Roman non c'è problema. E ho sempre usato bene. Times New Roman non c'è problema. Ma quelli di Microsoft hanno capito che le loro font precedenti non erano state né prevettate né avevano acquisito, perché? Perché non hanno acquisito i diritti a livello mondiale. Quindi non avendo acquisito i diritti e non avendo creato l'Eula hanno lasciato spazio al clonaggio delle font. Per cui c'è stata una delle fonderie digitali che aveva i diritti del Times che ha rilasciato il Times New Roman senza i diritti. Perché il Times è una font proprietaria, ma il Times New Roman è l'equivalente, un pochino meno bello, ma a occhio non si nota, ma è libero. Per cui Arial, tutti quanti questi hanno un equivalente. Anche centri ottimi. Sì, sì, ma tutti quanti. Adesso ce n'è un mila di Dio. No, no, poi vi do un paio di riferimenti che vi permettono di controllare. Ma il discorso non è tanto, adesso io prendo quelle sei font, perché le font sono la cosa alla quale uno pensa per ultima e quindi ovviamente dice, ma com'è possibile che mi facciano causa se uso una font? Ma ovviamente dietro c'è un impianto legato a 13 brevetti, al fatto che hanno la metrica brevettata e quindi se uno riproduce la metrica infrange un brevetto e quindi possono farti causa sul brevetto e non c'è una priorat, ma i signori sono bravi, lo fanno da professionisti, i 243 avvocati si guadagnano da vivere duramente. Sì, fa veramente paura. Allora, noi in questo momento siamo in una situazione di falsa interoperabilità perché ci scambiamo i documenti in un formato non standard, che non essendo standard è interoperabile falsamente, perché uno sa come farlo, gli altri fanno le verse engineering e quindi vanno per approssimazione. Non è interoperabilità degli standard. Una domanda, secondo me a me non è capitato, ma durante l'installazione di questo calibra o camera compare una licenza un po' pare di limite e uno non può appellarsi al fatto che sto tirando dentro qualcosa che non mi dice che... Allora, viene installato concorrentemente all'installazione di un software e è dentro la licenza del software, per cui quando lei installa o il office o il reader di office normalmente dice accetti la licenza e tutti per evitare di perdere tempo dicono sì e dentro c'è anche la fonte. Ma questo non capita in Linux? No, stiamo parlando di Windows. Ok, però capita che da Linux ti tiri dentro la licenza. Allora, in quel caso ovviamente è più incasinato, è più incasinato. Anche su Windows? Ah beh, certo, certo. Sì, su Windows se uno installa il lettore di PowerPoint, quindi il lettore di PowerPoint che è gratuito, però ha una licenza, è gratuito ma proprietario, quindi ha una licenza, accetto la licenza e entro dentro il problema delle fonte. Sì, ma in quel caso lì non possono prendere soldi. Sì, perché hai una fonte proprietaria? Sì, ma se hai installato un programma... E' quello che mi dicevo io. ...vicenziato... Ma non puoi usarlo con un altro programma. Tu vuoi usare il cammino. Lo devi bloccare? No. No, lui dice che installa il fonte, dopo tu... Allora, lui installa le font per uso con il visualizzatore di PowerPoint, non con tutti i tuoi programmi. E loro ti dicono ma io te l'ho data la font con il mio visualizzatore, non sta scritto, mica ti ho detto che la potevi usare con tutti i programmi. Ok, gli avvocati si guadagnano la vita duramente, sudano vulnerabilmente, sono bravissimi, che è equivalente alla non interoperabilità. In realtà noi ci stiamo scambiando i documenti che riusciamo a editare, ma in realtà ci stiamo scambiando i documenti che sono reciprocamente incompatibili. L'ideale è quello di avere l'interoperabilità basata su standard, è per questo che io sembra che abbia la fissa degli standard. Ma perché gli standard risolvono n.mila problemi? Allora, quindi perché scegli il LibreOffice? Sicuramente perché un'applicazione completa c'è dentro tutto, Writer, Calc, Impress, Impress è quello che sto usando io, Draw è un programma di disegno, Base serve a gestire database, non è come Access, cioè la gente pensa che Access è un database, Access non è un database, Access è una roba messa lì per costringervi a usare i formati proprietari di Microsoft, anche in aree dove i formati proprietari sarebbe meglio non usarli, ovvero nella gestione dei dati. Perché poi il problema è che quei dati vanno dentro un formato e tirandoli fuori da quel formato è un problema. E loro ovviamente questo non te lo dimenticano. Ma non sta a dire tra nessuna parte io ti devo dire se ti do il formato, cioè dovrebbero dire allora ti do un formato che è una schifezza, però tu usalo e chi lo userebbe? Quindi chi usa LibreOffice? Governo francese, comunità valenziana, ministero della difesa olandese? Questi sono alcuni esempi, ovviamente ce ne sono altri e molto maggiori. Il comune di Monaco di Baviera usa non solo LibreOffice ma usa Linux su 15.000 PC. È un caso in questo momento unico e complesso ma interessante. In Italia ci sono diverse province, diversi comuni. in Italia ci sono diversi comuni. Il popolo dice che lo stanno abbandonando. Allora, scusate, viene detto a microfoni spenti, Microsoft si è comprata il sindaco, cioè i due candidati alla vostra una di sindaco di Monaco di Baviera. Quindi il sindaco eletto, la prima cosa che ha detto, allora, ditemi se è una roba umana, cioè il sindaco eletto viene intervistato all'interno e gli fanno fare del tipo, che programma ha come sindaco? E la risposta è stata, e se dubitate delle mie parole andate a leggere, la risposta è stata, sono un fan spiegatato di Microsoft, torneremo ai prodotti Microsoft. Cioè gli poteva chiedere quanti anni ha che lui avrebbe risposto sono un fan spiegatato di Microsoft. Allora, è ovvio che Microsoft ha i soldi e li usa in modo, diciamo, in molti casi proprio e in alcuni casi improprio. Monaco di Baviera è stato un caso improprio. Fortunatamente abbiamo i nostri amici a Monaco di Baviera e è stato usato e, diciamo, è stata fatta pressione tanto quanto, per cui adesso la situazione è che stiamo esaminando l'infrastruttura per capire che cosa fare, che è un po' diversa dal, sono un fan spiegatato di Microsoft, torniamo indietro. Quella lì era una roba, allora, in qualsiasi, ma la Germania per prima, uno che esce con una roba del genere, secondo me dovrebbe essere giustiziato sul posto, perché un uomo politico non può dire una cosa di questo tipo. Per cui, ci sono state voci sì, diciamo che in questo momento sono tornate indietro, perché come si è manifestata la Corte è assolutamente improponibile, cioè si andava alla Corte dell'AIA su una roba del genere, perché uno che esce fuori con un'affermazione di questo tipo è, diciamo per lo meno sospetto, progetto indipendente in grande crescita, quindi io ho detto 30 anni di storia da star writer, ma gli anni di storia adesso sono 14, dal 2000 a oggi. Nel 2000 è nato Open Office, Sanna ha acquisito Star Division, che era quella nata dallo studente tedesco che doveva scrivere la sua tesi di scuola superiore e siccome non trovava nessun software che rispondesse alle sue necessità, si è sviluppato Star Writer per Amiga, poi ha fatto il porting per PC e da lì la storia è andata avanti. È nato Open Office, Open Office è nato sotto la protettrice di Sanna, che nei primi anni ha avuto una funzione fondamentale, perché non esisteva la cultura della comunità del software libero su un prodotto desktop come Open Office all'epoca. Il software libero era un software soprattutto di tipo server, esisteva sicuramente la distribuzione Linux, ma non aveva il livello di popolarità che a oggi e soprattutto non si pensava che potesse essere usata come software all'interno di grandi organizzazioni. Quindi Open Office ha avuto il ruolo fondamentale di dire abbiamo una risposta per la produttività individuale che è fatta da software libero e quindi ha avuto all'inizio un percorso di crescita, chiaramente la comunità è cresciuta, la comunità ha iniziato a farsi sentire, Sanna non amava tantissimo la comunità, poi qualcuno lo amava di più qualcuno di meno insomma. Per cui nel 2006 si è iniziato a parlare del fatto di fare una fondazione indipendente, la fondazione indipendente è nata quando Oracle ha acquisito Sanna e si è capito che i giorni di Open Office erano puntati. Quindi noi abbiamo creato la Document Foundation, abbiamo creato LibreOffice, perché? Perché il marchio Open Office è un marchio che era di proprietà di Sanna e poi è passato con la proprietà di Oracle e ancora oggi il marchio di proprietà di Oracle. E cos'è successo poi? Un anno dopo è successo che Oracle e IBM hanno fatto in modo che una volta che Oracle aveva abbandonato il codice di Open Office, il codice di Open Office venisse passato alla Farsi Foundation, ma la realtà è che quello è un progetto IBM, io vivo con le piume dei nativi americani, perché? Perché i sviluppatori esistenti sono praticamente tutti IBM e soprattutto è controllato da IBM, perché? Perché la forma di votazione per email tipica della Pace Way fa sì che avendo nella comunità un'azienda che ha 60.000 dipendenti diventa molto difficile o maledettamente difficile per i volontari riuscire a vincere nelle votazioni. Perché? È ovvio che quelli di IBM non sono stupidi, non fanno votare 60.000 ogni volta. Contano i volontari e poi le ultime due ore arrivano 20 voti in più. Così. noi che questa storia la sapevamo perché era la stessa del periodo di San, cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo creato una fondazione che ha uno sbarramento per le aziende, cioè negli organismi decisionali non ci può essere più del 30% degli esponenti di una singola azienda, ente, organizzazione, può essere anche un ente non a fini di lucro, noi non ne vogliamo più del 30%. Perché? Perché se sei molto bravo convinci un altro 20% a darti i voti, ma in quel caso significa che hai ragione e quindi probabilmente si convince anche tutto l'altro 70%. Se invece porti avanti una strategia commerciale che è tipicamente aziendale e ci dispiace sarai sempre in minoranza. Perché? Ma non perché ce la bianco le aziende, perché poi dentro la Dog & Foundation c'è Red Hat, c'è Google, ci sono le aziende, però o accetti il fatto che la comunità ha voce in capitolo, oppure non lo accetti e se non lo accetti normalmente tu hai più muscoli come azienda di qualsiasi comunità di volontari e quindi automaticamente ti trovi ad avere ragione tu. E ti piace vincere facile della pubblicità, voglio dire. Per cui noi abbiamo veramente rovesciato il paradigma, cioè invece che avere un'azienda che faceva da cappello, noi abbiamo rovesciato se volete l'ombrello e lo abbiamo trasformato, gli americani dicono in salatiera, noi diciamo la barca dove tutti devono remare nella stessa direzione, ma il concetto è questo qui. Per cui i principi fondanti sono intanto la licenza copilet, perché? Perché i sviluppatori volontari devono essere protetti. La licenza Apaci, di Apaci Open Office, consente alle aziende di prendere tutto a un certo punto, chiudere i rubinetti e dire lo faccio proprietario. Allora, siccome oggi le piattaforme sono tante tali per cui sicuramente l'integrazione con delle porzioni proprietari è indispensabile, però noi abbiamo, siamo passati alla licenza LGPL e a quella MPL che comunque sul codice di LibreOffice obbliga a restituire gli sviluppi a LibreOffice. Poi certamente se io integro librerie proprietarie con LibreOffice e quelle sono porzioni mie di codice, posso fare uno sviluppo che non si chiamerà LibreOffice e che prende LibreOffice come motore e quello non lo si ricondivide. D'altronde se pensiamo di dover andare su Android o su Cloud, bisogna necessariamente trovare un po' di compromesso e noi riteniamo che il compromesso sulla licenza Copileft sia ragionevole, poi comunque sta funzionando perché abbiamo attratto aziende che vengono dal mondo del software proprietario e che stanno facendo sviluppi sulle piattaforme mobile dove solo una porzione rimane proprietaria ma il grosso del motore rimane quello di LibreOffice e quindi le migliorie, i miglioramenti, le correzioni, chiamateli come volete, che queste aziende apportano al codice di LibreOffice, poi sono correzioni che vi trovate, ci troviamo tutti quanti su LibreOffice. Questo per esempio è particolarmente valido per la compatibilità con i formati Office Open XML perché un conto è avere la compatibilità su un desktop dove avete la tastiera, ma se voi andate su un tablet e vi si sbarella il documento, vi assicuro che potete piangere nelle lingue più strane del mondo ma non lo recuperate, quindi le aziende che in questo momento stanno, ce n'è una in particolare che sta facendo uno sviluppo su codici LibreOffice per iPad, l'azienda americana per cui ha scelto la piattaforma iPad in quanto negli Stati Uniti è ampiamente la piattaforma tablet più diffuso, soprattutto a livello aziendale, però il lavoro di compatibilità sui formati che ha fatto è il lavoro di compatibilità che voi vi trovate su LibreOffice, quindi le ultime due versioni LibreOffice che sono migliorate tantissimo è perché c'è un'azienda che sta facendo gli sviluppi su tablet e quindi i documenti lì o si aprono bene o si aprono bene, perché se no su tablet possono morire veramente col dittino a risistemarmi l'impaginazione sarebbe una cosa, quindi poi non chiediamo contributor agreement, perché? Perché ci fidiamo di quello che fanno gli sviluppatori, ovviamente progetto di tipo meritocratico, governo della community, chi contribuisce al progetto può diventare membro, se diventi membro puoi eleggere e puoi essere eletto e indipendenza per il 30% che vi dicevo. Quindi come sono evoluti i progetti? Allora la palla in alto è quella di OpenOffice, la palla in basso è quella di LibreOffice, tra l'altro a più di un anno fa, la palla più piccola è quella di Apache OpenOffice, questa è una ricerca fatta da una università svedese, noi adesso siamo arrivati a 850 sviluppatori che nel corso di questi quattro anni hanno contribuito a LibreOffice, ovviamente non sono tutti sempre attivi, perché è un progetto di software libero, quindi c'è gente che ha fatto quel contributo e poi ha detto non mi diverto tantissimo, non ne cerco un altro e quindi è passato da un'altra parte. Però la differenza è evidente, cioè la crescita di LibreOffice è stata dovuta secondo noi proprio al fatto che abbiamo fatto, creato un ambiente che difende i volontari e quindi i volontari in modo naturale si sentono a loro agio in un ambiente che li difende e quindi abbiamo potuto fare anche nei cittadini di sviluppo, cioè avendo i sviluppatori che crescono uno può anche ragionare in termini di tipo strategico sul progetto, ovviamente non è che si possono obbligare gli sviluppatori volontari a fare delle cose, però quelli che sono pagati hanno degli indirizzi per cui pulire il codice dalle librerie deprecate, c'erano librerie che risalivano al mondo del DOS e che nessuno aveva mai pulito, il problema non è tanto che le librerie sono lì, il problema è che poi nel gioco dei riferimenti incrociati le librerie impedivano lo sviluppo di funzionalità perché poi si piazzavano in mezzo quando c'era qualche nuovo sviluppo e quindi è stato fatto poi il primo lavoro di pulizia e le prime versioni di pre-office che sicuramente non erano ideali, il motivo è proprio questo, cioè la versione dalla 3.3 alla 3.6 sicuramente avevano dei problemi, 3.5 alla 3.6 un po' di meno, però comunque diciamo che non erano quelle che gli utenti avrebbero voluto, mettiamola così. Ci sono dei bug, delle regressioni, lo sappiamo benissimo, ma o si passava da questo oppure si continuava a tenere un codice che era vecchio, che non consentiva un'evoluzione perché per esempio passare a OpenGL ha significato andare a rivedere tutte le librerie grafiche dentro tutti i moduli di LibreOffice, non è banalissimo. Le librerie di Cone sono state riviste, le disegnate, cioè anche cose che apparentemente sembrano banali, hanno avuto un lavoro di revisione e poi adesso invece si fa avanti molto più spediti sulle funzionalità, perché? Perché si è riguito, lo zoccolo adesso è stato lavorato, quindi lo zoccolo duro è diventato uno zoccolo su cui si fa affidamento e quindi sono cresciuti anche gli utenti ed è stato fatto investimento sulla qualità del software, quindi abbiamo sviluppato nuove prestazioni, nuove funzionalità, per esempio questa è una integrazione con Google Drive, voi adesso potete salvare direttamente su Google Drive dall'interno di LibreOffice e leggere da Google Drive, ovviamente dovete fare un po' di configurazione perché non è che lui automaticamente sa dove è il vostro Google Drive. Sono migliorate le prestazioni di CAC, adesso CAC apre alcuni file Excel più velocemente che Excel. Prima non era così, però è ovvio che se uno va a vedere tutti i problemi bloccanti e li va a risolvere prima o poi riesce ad arrivare anche dove ipoteticamente non sarebbe stato logico arrivasse. Questo perché? Perché abbiamo aumentato anche il numero dei test sui documenti. Siamo partiti da pochi test, non c'erano. All'epoca gli open office veniva fatto tutto manualmente. Perché? Perché il capo del progetto era uno che veniva dalla quality assurance, dalla quality assurance anni 80 e quindi diceva no, quello che vedono gli occhi di un essere umano non li vede l'automazione delle cose, ma certamente noi abbiamo ancora oggi persone che fanno quality assurance manualmente, ma se devo prima vedere cosa succede ai documenti, facciamoli aprire un server che ci dice il documento si è aperto, si è aperto bene, non si è aperto. Nell'apertura di questo documento il software è cresciato e poi andiamo a vedere i risultati e andiamo a intervenire sul delta, perché se i documenti si aprono bene non ci sono regressioni, ma per quale motivo devo andare a rifare manualmente quei test. Quindi adesso siamo arrivati a 120 test circa, questo significa che su ogni build vengono fatti questi test, quindi praticamente quotidianamente, perché le build sono praticamente quotidiane. E alla fine questo ha un impatto sulla qualità del prodotto, cioè il coperity scan va a cercare i difetti, ovviamente questi sono i difetti sintattici sul codice, non sono i bug e le regressioni, però se io trovo gli effetti sintattici sul codice e li risolvo, poi gli errori degli sviluppatori, che sono i bug e le regressioni, ovviamente non subiranno neanche gli effetti perversi degli errori sintattici sul codice, sul esempio. Quindi i bug e le regressioni saranno realmente gli errori di stampa, definiamoli così, degli sviluppatori, tanto per dare dei riferimenti per i non tecnici come il sottoscritto. 0,1 errore per mille righe di codice, ovvero la misurazione attuale di LibreOffice, è un errore di stampa o di battitura ogni 400 pagine da tiro scritte. Un errore di mille righe di codice equivale a un errore di stampa o di battitura ogni 40 pagine da tiro scritte, quindi è già poco uno ogni 40 pagine, ma uno ogni 400 è effettivamente realmente molto basso. E ovviamente qui arriviamo nel punto secondo me fondamentale, LibreOffice usa un formato, usa l'unico formato standard di indipendente aperto e adesso vi dirò perché è l'unico. Allora, questo è un documento assolutamente becero, è scritto con una versione portoghese di LibreOffice, per cui vi trovate Ferramentas invece di strumenti, ma non è questo il problema, è un testo semplicissimo. Allora, salvato il formato proprietario viene questa roba qui, chiarissima, molto facile soprattutto da riprodurre, perché si capisce dove tutti i componenti, è chiaro dove sono, mi sembra evidente. E questo è il formato standard, allora è vero che uno dice, ma è una roba comunque per tecnici, sì, ma voi trovate la font, c'è scritto Bstream Vera, 40 punti, c'è scritto MyText nella quattro ultima riga, cioè gli elementi sono leggibili, umanamente leggibili. Uno sviluppatore che deve scrivere, deve fare in modo che il software salvi questo, probabilmente ha le stesse difficoltà nel farglielo salvare, ma poi ha un compito molto più facile nel confrontare questo output con un output sbagliato. Perché? Perché chiaramente l'output sbagliato avrà un tag mancante, un div aperto e magari non chiuso, avrà un tag body che non sta al posto giusto e diventa molto più facile fare in modo che io riesco a riprodurre. Perché ODF ha 140 implementazioni, alcune non native, molte non native, e Office OpenXML ne ha una sola nativa e tutte altre fatte con reverse engineering? E il motivo è semplice, perché ODF rispetta gli standard e quindi non ci sono due modi per scrivere ODF, ce n'è uno solo, o meglio, ce ne sono tanti, ma il risultato deve essere questo. Office OpenXML, che è il formato dei documenti Microsoft, quindi DocX, XLSX, PPTX, eccetera, viene scritto in modo diverso a seconda della versione di Microsoft Office, quindi voi avete Transitional 2006, Transitional 2010, Transitional 2010, 13 e Strict 2013. Strict 2013 significa è il formato standard versione 2013. Allora, per la cronaca, Strict 2013 non lo supporta neanche Microsoft Office, cioè, allora scusate, l'ho detto male, lo supporta, scrive, ma poi non lo legge. O meglio, quando lo legge fa casino. Bellissimo. È ovvio che il documento deve essere stato scritto da un pierino, quindi se il documento lo scrivo io in DocX, vi assicuro che poi vi esplode se lo vi leggete con Office. Perché? Perché io che sono un... bisogna essere pierini nella vita, se no non si diverte. Io per esempio ho mandato a quelli di Microsoft un foglio Excel dove c'erano le date di nascita e di morte della mia nonna. La mia nonna, manco a farla apposta, è nata il 28 febbraio 1900. Prima del 29 febbraio 1900, giorno che non è mai esistito se non per Excel. E quindi mia nonna risultava nata un giorno prima. Quindi risultava nata perché se io inserisco tutte le cifre, poi salvo, e salvo in formato strict, Excel è vero che toglie il 29 febbraio, ma aggiunge un giorno che io non ho mai inserito, che è il giorno prima, cioè il 27 febbraio. Quindi mia nonna risultava nata il 27 febbraio del 1900. Io a prima gli ho detto vorrei spiegazioni poco valore, perché alla Nagrafe mia nonna è nata quel giorno. Perché secondo Excel è nata il giorno prima? Loro mi hanno detto hai sbagliato tu a gestire il file, gli ho detto no. Allora, l'utente non sbaglia mai, sbaglia il software, mi spiace. Perché siccome voi il principio secondo cui ragionate voi è che LibreOffice sbaglia Microsoft Office, non sbaglia. Allora, i principi o sono paritetici o non sono principi. Quindi se sbaglia LibreOffice sbaglia anche Microsoft Office. Io con LibreOffice ho fatto lo stesso file e LibreOffice mi tiene le date. Microsoft Office non me le tiene, mi dispiace sbaglia Microsoft Office. Attendo ancora la risposta. Me l'ha dato un canadese e io ho detto non scherziamo neanche. Dico tu, nonostante sia un dipendente Microsoft, dovresti essere una persona intelligente se arrabbiato. Per cui la cosa è rimasta lì, insomma. Per cui va bene. Diciamo che io non sono una persona, anche se sembro simpatico, a volte non lo sono poi così tanto. Per cui Open Document Format viene gestito in modo standard. Qualcuno è preoccupato dalla presenza della NATO tra gli enti che lo supportano? Allora, la NATO la vediamo tutti come ente guerra fondaio. Vedetela in modo diverso. Allora, loro si scambiano in formato standard le informazioni di puntamento delle testate nucleari che finiscono in mezzo agli oceani. Allora, siamo tutti d'accordo che sarebbe meglio che non finissero in mezzo agli oceani e non venissero neanche fatte partire. Però sembra che questo sia impossibile. Allora, io preferisco che se le scambi in un formato standard, sulla base del quale poi le testate finiscono veramente in mezzo al mare e non sulla terraferma come potrebbero aggiungendo il 29 febbraio. Perché immaginatevi, allora, quello riguarda le date ed è facile da scoprire, ma il problema è che nelle opzioni di puntamento c'è anche la data, l'ora e non so se sapete che i fogli elettronici calcolano le date con un numero progressivo che parte per convenzione dal 30 dicembre 1899. Non ho capito per quale motivo, ma è così. Non chiedetemelo perché io non sono un tecnico. E quindi quel famoso 29 febbraio sta lì in mezzo e la Nato è stata, sa, io vi ringrazio, perché per il momento nessuna testata nucleare è arrivata su Rozzano, che è il posto dove abito io e spero che non arrivi neanche su Mestre e su Venezia, perché usa un software che quando fa i calcoli li fa seriamente, considerando le date dei giorni che sono esistiti e non quelli che non sono esistiti. Comunque, cosa fa Office OpenXML? Prima di tutto non esiste due cose in particolare. Non esiste nessuna implementazione nativa libera. Il che significa? Che se io voglio fare un confronto, sto io in formato Office OpenXML e quello scritto dall'implementazione unica esistente che è Microsoft Office, io mi devo comprare una licenza di Microsoft Office. Il che non è esattamente carino, perché se lo standard è uno standard aperto, le sue implementazioni dovrebbero essere, ci dovrebbe essere perlomeno un'implementazione libera. Poi Microsoft continua a vendere Office tranquillamente, ma un'implementazione libera ci dovrebbe essere. non avevo una stanza piena di fogli? Sì, 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 ma il problema è che quella è la descrizione, ma non esiste un'implementazione libera. La descrizione significa che se io voglio l'implementazione libera, significa che io salvo in formato Office OpenXML con un software libero. Non c'è. Quindi io salvo in formato Office OpenXML, no, non è nativa. Quindi non può essere considerata implementazione di riferimento. LibreOffice e Apache OpenOffice sono le due implementazioni di riferimento di ODF. Quindi se lo sviluppatore di un altro software vuole creare un filtro ODF, salva il file, prende lo stesso file, lo salva con LibreOffice o con Apache OpenOffice e poi li apre tutte e due e riga per riga, guarda, si fa così, d'altronde gli standard in qualche modo devono essere fatti. Con Office OpenXML deve acquistare la licenza di Office, ma quel che è peggio è che si trova quattro versioni diverse di implementazione, non distinguibili tra di loro, perché la desinenza è sempre docx, xls, l'estensione è sempre uguale. Quindi io potrei avere un transitional 2007, io sono tutto contento che il mio docx corrisponde riga per riga, poi lo faccio aprire da Office 2013 e lui me lo apre in un modo sbagliato. quindi di fatto, allora, in teoria esistendo la descrizione, 7200 pagine, ma comunque facciamo finta che il numero e le dimensioni non contino, esistendo la descrizione è uno standard, ma poi il standard va rispettato in modo rigido. Se voi prendete un alimentatore di un telefono cellulare che dà i due o tre volt al telefono, voi siete sicuri che attaccando oggi con la micro USB che attaccando qualsiasi telefono, il telefono viene alimentato. Poi lo alimenterà un po' più veloce, un po' meno, però viene alimentato. Immaginatevi di prendere un alimentatore, uno che esce a 3 volt, quell'altro che esce a 9, quell'altro che esce a 21 volt e fuori non c'è scritto. E poi attaccare il telefono cellulare, dopo un quarto d'ora il telefono cellulare esplode e dice, eh ma dovevi saperlo? E dovevo saperlo da cosa? E gli standard vengono fatti e devono essere rispettati. E non è che devono essere rispettati solo gli standard hardware, devono essere rispettati anche gli standard software. Quindi il fatto che Microsoft non rispetti lo standard che essa stessa ha creato, fa sì che lo standard non sia uno standard. è per questo che ho detto ODF è l'unico standard, perché viene rispettato. Cioè farlo e non rispettarlo gli vado a non farlo. E poi, altra cosa, Office Open XML continua a contenere elementi proprietari. Cioè accetta video for Windows, mi dispiace, non può essere standard. non posso mettere dentro un formato video che è un video, un formato video che non solo è proprietario, ma è di un'unica piattaforma, di un unico sistema operativo. Il problema è che quelli di Microsoft, quando parlano di standard, proprio non ce la fanno, lo vedi, sudano, gli viene una roba terribile. Quando io parlo alle conferenze con quelli di Microsoft, questi qui, cioè è una lotta impari, perché io sono bello tranquillo. E questi qui sudano, cioè è vero che io faccio di tutto perché loro sudino, però loro non fanno niente per ridurre il loro sudore. Perché continuano a fare cose che non dovrebbero essere consentite. E qui mi dispiace, sono i governi che dovrebbero dire non è consentito. Cioè il governo italiano, ma anche quell'unico che l'ha fatto è quello inglese, ha detto lo standard ODF, Office Open XML, non vogliamo sentirne parlare. Volete vendere Microsoft Office in Inghilterra? dovete essere compatibili ODF. E questo dovrebbe essere fatto nei paesi. Lo vuoi vendere Office Open XML? Non è che ti obblighiamo a usare un altro formato, ma non è vendibile, per esempio, alla pubblica amministrazione. Perché se non supporti un contenitore, guardate il documento come un contenitore. Perché? Perché contiene i vostri contenuti. Quindi pensate che quello che è fondamentale, il formato standard è veramente aperto. Questo è un formato che non è gestito da noi, come il Dogma Foundation, è gestito da un ente terzo. Si chiama Oasis e i membri sono la Nato, Microsoft, IBM, noi. E il bello è questo, che quando si fa lo standard bisogna essere tutti d'accordo per poterlo approvare. E quindi lo standard rispetta quello che è il minimo comune denominatore. E gli standard sono questo. Perché poi altri dicono, ma sarebbe bello se supportasse WordArt. No, non può. WordArt non potrà mai essere standard. Quindi iniziamo a dire che WordArt, se ce lo facciamo per la nostra locandina personale e poi la stampiamo, viva Dio, non è che vogliamo limitare la libertà degli utenti. Ma se vogliamo scambiarci documenti, no WordArt, no formati proprietari, solo formati standard per i contenuti, eccetera. Perché? Perché se io lo faccio su Windows, lo mando a lui che usa Linux, lui deve avere i codec che gli scombattano i formati perché i codec devono essere standard. Allora, sarebbe meglio che fossero tutti i formati standard aperti. Ma meglio JPEG, proprietario, ma standard rispettato, che quello del Paint di Windows. Perché è un formato che non è standard. Allora, usiamo MP3. Sarebbe meglio OGG, va bene, ma almeno MP3 è standard. Se voi prendete un MP3 e lo leggete su 40 lettori diversi, l'MP3 suona sempre allo stesso modo. Suona in funzione della sua campionatura, ma è diverso. Cioè, suona in funzione del lettore. Quindi, ragioniamoci su questo perché effettivamente io lo do per scontato, ma io sono anni che ci sto ragionando. Ma gli standard sono questi e aiutando gli altri a capire il valore degli standard. In realtà aiutiamo la società civile a crescere, perché sennò continueremo ad avere studenti che mandano in giro documenti illegibili, perché non standard. Abbiamo fatto i documenti illegibili, mi è capitato due volte. Ho un amico che... Allora, scusate, siccome siamo abbastanza stretti, facciamo le risposte dopo. Ok. Allora, delle font abbiamo già parlato. La risposta alle font. Google Fonts. Allora, Google Fonts è un prepositore di font libere, dove Google ha già fatto tutto il lavoro di controllare le licenze, controllare la proprietà intellettuale. Quindi, se voi scaricate una cartella di una font da Google Font e non la modificate, ovviamente, dentro quella cartella c'è la liberatoria sulla proprietà intellettuale se necessario, la licenza se necessario, la licenza di distribuzione se necessario. Quindi, io quello che consiglio è, se siete individui, fate quel cazzo che mi pare, non ne prego niente. Se siete in un'azienda, vi scegliete un po' di font, sono 652, se non le trovate, vi diamo il premio Nobel alla difficoltà di riferimento delle font. Vi fate una cartella con 10 font, fate uno zippone, agli altri gli mandati, se vi mandano i documenti leggibili, vi mandate allo zippone, installa queste font e quando li mandi a me, per favore, usi una di queste font. Non ti sto creando problemi, sono libero e puoi installare su tutte le macchine che vuoi. Impariamo a fare queste cose, perché se no non ne usciremo più. Interoperabilità, questo, vabbè, ne abbiamo già parlato, quindi vado veloce. Questo è il lavoro che è stato fatto, che dicevo prima, salvataggio con Office, lavorazione con LibreOffice, riapertura con Office. Il documento deve essere identico. Questo è stato fatto dall'azienda che sta per annunciare LibreOffice sui tablet. Perché? Perché se il documento non è così, vi assicuro che uno può piangere veramente. E chiaramente cosa facciamo? Noi, tutte le librerie sono messe a disposizione, quindi queste sono tutte le librerie create da infiluppatori LibreOffice per l'interoperabilità che sono disponibili per l'implementazione su altri software. La migrazione, questo ovviamente è fatto più per questioni aziendali, questo è interessante, il meno 234 mila è reale, nel senso su mille utenti voi potete risparmiare circa 220-230 mila euro rispetto all'acquisizione delle licenze. poi posso darvi tutte le documentazioni del caso. La comunità italiana, qui ci sono tra l'altro dei soci di LibreItalia, è nata da poco, in realtà sarebbe nata più tempo ma la burocrazia italiana ci ha fatto mettere sette mesi di più. Il 29 novembre faremo la prima conferenza di LibreItalia, faremo corsi di formazione, supporteremo, quindi aiuteremo AICA a rendere più visibile l'ICDL open source, cercheremo di fare lobby perché secondo me è fondamentale fare lobby e lobby la faccio io perché ho le spalle larghe, perché gli altri sono troppo gentili in alcuni casi. A quello di Microsoft a una riunione gli ho detto contiamo i voti per favore, ma non è carino dirlo, ma io lo dico, ho mica paura, contiamo i voti. In Italia chi ha più voti vince, in questo momento ho più voti io. Sono anche by the way più grosso e più cattivo, questo gli ho detto per cui non andiamo alle mani perché comunque vincerei io, però in ogni caso ho più voti. Quello di Microsoft mi ha detto ma non è una roba che si fa? Allora, se elenco le cose che non si fanno e che voi fate, inizio oggi e fra una settimana sto ancora raccontando. Ah scusate, questi sono i miei indirizzi, riferimenti, rispondo, in realtà dietro anche i fori per Italia ci sono anch'io perché ho in realtà grande fratello controllo tutto. Grazie per l'attenzione, se avete delle domande molto commentieri, se domande vi vengono in mente domani scrivetemi, però ditemi ci siamo conosciuti a Mestre? Perché io se no ricevo talmente tanti email che vanno in quelle, rispondi quando hai tempo, ho la cartella ho scritto, rispondi quando hai tempo e l'hai tempo potrebbe essere a gennaio. Posso incorporare la domanda che stavo facendo prima? Allora mi è capitato due volte, ho un collega di lavoro che è la fidanzata che lavora nel comparto della scuola. Una macchina, due butte, tranquillo, però purtroppo per aprire alcuni documenti è costretto a usare Office di Microsoft. Perché? Perché nonostante avere LibreOffice e quando l'ho fatto conoscere mi è sempre solo ringraziato, ci sono dei documenti, soprattutto di Excel, che non riesci ad aprire perché si contengono delle macro e delle BBA. Erdo, come siamo privi allo stato scuola? Allora, lì bisogna da un lato cercare di capire, perché il problema... Premesso che un utente non è, non è un grado smanettare. No, no, ma non è, non c'è bisogno, io sono, ve l'ho detto, laureato nel 78 in lettere, quindi non mi dite, io non sono tecnico, sono meno tecnico di tutti voi. Quindi, allora, prima cosa da fare è ovviamente capire se non attivando le macro come si apre il documento. Senza macro non può funzionare. Ah, ok, quindi sono, quindi in realtà non stiamo parlando di macro, stiamo parlando di una applicazione scritta con Excel. Cioè, chiariamo le cose. Non lo so nessuno. No, 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 perché, allora, le macro sono automazione di processo, ma se io scrivo con un linguaggio che ha la mia età, quindi 60 anni, delle robe, quelle sono inappropriate, si continua a scrivere, va benissimo. Noi cerchiamo di renderle compatibili, in alcuni casi è impossibile, cioè bisognerebbe realmente di fatto sviluppare un'altra applicazione. Se le manda la pubblica amministrazione, bisogna, uno, cominciamo a protestare con la pubblica amministrazione, mandando lettere che dicono, cari signori, e noi adesso come Libre Italia faremo i facsimili per tutte queste lettere, le sto vedendo io insieme a Carlo Piana, che è un avvocato, in modo da avere lettere che siano inattaccabili dal punto di vista legale. Il fatto che dice, voi mi state mandando un documento che mi costringe all'acquisto di un prodotto, quindi o il prodotto me lo acquistate voi, oppure mi date il documento in un formato, questo fa parte della libertà individuale, codice civile, non solo, voglio dire, codice dell'amministrazione digitale, e uno gli dice, allora, prima di tutto se una pubblica amministrazione, articolo 68 del CAD, stai andando fuori legge, vuoi che lo mandiamo al TAR? Perché c'è il danno in Rariana adesso, vuoi che lo mandiamo al TAR? Allora, noi siamo buoni, non lo mandiamo al TAR, oggi, domani non è detto, quindi date una regolata che i tempi cominciano a dire, perché, come dire, l'innervosimento cresce, il piloro ha delimi di sopportazione, il mio è quasi, ci ha scritto quasi full, quindi quando c'è scritto full parte la prima lettera al TAR, e lì sarà, mi dispiace, il malcapitato dipendente pubblico che si troverà un danno in Rariana, mi dispiace, perché sarà chiaramente uno su, però a un certo punto bisogna arrivarci, perché se si continua, cioè, adesso c'è la legge, c'è anche il regolamento applicativo, io sono fatto parte della commissione agli, il regolamento applicativo è stato pubblicato l'8 gennaio, mi sembra, del 2014, scrivete usando questi documenti e dicendo, esiste un regolamento applicativo che dice che quello che tu stai facendo è contro la legge, mi dispiace, per te è comodo sviluppare in QBA, benissimo, la legge dice un'altra cosa, dice che tu devi dare un formato standard che ci permette di leggerlo. Che non è VBA evidentemente? No, VBA è un software, VBA è un linguaggio proprietario che viene mantenuto solo per il login, ha 60 anni, oggi esiste Python, portabile, multipiattaforma, eccetera, quindi il basic è una roba vecchia, ha ragione di essere solo se vogliamo impedire la libertà degli altri, quindi qui bisogna purtroppo allora il tuo amico digli, comincia a dire che loro stanno facendo una cosa che è contro la legge, e che se non sanno che è illegale si vadano a studiare, perché la legge come si dice in Italia non ammette ignoranza e quindi si vadano a studiare le cose, se vuoi ti mando sia il CAD sia la cosa di regolamento applicativo dell'articolo 68, ma è chiarissimo, quello sui formati è l'articolo 52 del codice di amministrazione digitale, formati aperti e standard, quindi VBA proprietario chiuso, non sta, cioè tutte ce le ha, quindi che la smettano, perché non c'è poco da fare, oppure se lo fanno a manina, il tuo amico gli mangono una roba stampata del libro office e si inseriscono 6.000 dati a mano, vogliono usare VBA, la legge protegge il tuo amico, non loro, capisco, cioè ci vuole, a un certo punto bisogna iniziare non per le scavole, perché se no non andremo mai da nessuna parte, purtroppo. È buono sapersi, nel senso che so dare una risposta in modo tale che possa avere anche i documenti che si non leggibili senza usare office, perché lui deve mantenere un portatile o se no si fa comprare una licenza di... No, perché lui deve mantenere un portatile sul suo portatile solo esclusivamente per poter capire i documenti che gli arriva dalla scuola. Ma in questo punto dice tranquillamente, se mi comprate un portatile con Windows io me lo tengo, non c'è problema, me lo comprate voi. In realtà, in teoria la legge direbbe questo, se vuoi usare un formato proprietario, consenti all'utente, dai all'utente gli strumenti per la gestione del formato proprietario. Se no, perché non è che stai facendo marketing per Microsoft, sì, la realtà è questa, però purtroppo la realtà ti dice che non dovresti farlo. Allora, ti ringrazio. Figurati. Ma una domanda, questo è il sito a... Ah no, scusate, l'ultima cosa, peraltro se si riesce ad avere questi documenti con queste macro, in alcuni casi si può fare in modo che poi il pre-office diventi compatibile. Con tutto è difficile, però ovviamente le macro bisogna vederle. Ti ripeto, adesso vedrò quello che... Ma è la roba in valsi? Non lo so, non lo so. Fatti dire se è la roba in valsi, perché sulla roba in valsi probabilmente parte al start di Bolzano la prima cosa, perché non solo ce l'ho sul piloro, ma ce l'ho anche stampa di cui per gli invalsi. Comunque, appena il lunedì dopo lo posso sentire, poi ci sono tattoli in mezz'ora. Ci sono altre domande. Sì, ma non stavo fuori. Potete spiegare questo... È una casa di te, adesso... È inerente al personale, sempre pubblica. Infatti adesso... Cos'è? Adesso non lo fai sapere a tutti... Allora, la nuova versione del pacchetto per l'ufficio LibreOffice si distingue dai precedenti per alcune importanti novità generali. Per esempio è stato ulteriormente potenziato il supporto per l'importazione dei PDF, con un miglior riconoscimento delle font, dei colori del testo rotato e del tratteggio. Passi avanti fa anche il supporto per Office Open XML, quello è il formato proprietario di Microsoft, il formato Open, quello che ha scritto qui questo giornalista dovrebbe essere picchiato, cioè c'è scritto il formato Open, basato sul linguaggio XML di Microsoft Office, ha già scritto tre castronate su una frase per l'importazione di FIDOXX e XLSX. Allora, significa semplicemente LibreOffice, ogni versione fa dei passi in avanti in termini di compatibilità con gli altri formati. Per ulteriori domande ci fermiamo qua fuori. Grazie. Grazie.